Sono i protagonisti di una soap di successo, ma per loro comincia l'interpretazione più difficile. Ci sono i miei attori preferiti al cinema. Questa volta li porti, eh? Ora, nemmeno se mi portano di peso. Tranquilla. Eccoci. Due peglietti per un'insolita vendemmia. Grazie. Grazie. Vieni a vedere anche tu il nostro film in una sala UC Cinema. Un'insolita vendemmia. Ti garantisco che non te ne pentirai.